E' stato una partita difficile e noi abbiamo dimostrato di poter giocare contro chiunque e siamo contenti di questa cosa qua. Adesso il Viareggio, una gara che solo sulla carta sembra valere poco, invece potrebbe aprire nuove e importanti posizioni in classifica. Sì, sicuro, come lei ha detto, noi speriamo di fare bene, adesso ci prepariamo bene questa partita, cercare di batterli e prendere questi tre punti. Dopo vediamo che succede e chi affronteremo nel playoff. Però noi siamo pronti e vogliamo fare bene a Viareggio adesso e prendere questi tre punti. Domenica si è visto anche che lo stadio, l'arena può essere molto importante per il Pisa. Sì, ci ha dato una grossa mano il pubblico, siamo contenti anche di questa cosa qua. Speriamo di vedere la piena arena in prossime partite. Noi faremo tutto di giocare la prossima partita all'arena, così almeno abbiamo una grossa mano in più di loro.